Dare un sostegno concreto ai familiari che si prendono cura di un congiunto malato. Questo l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta Regionale Toscana che prevede le linee di indirizzo del Fondo per il Sostegno del Ruolo di Cura e Assistenza del Caregiver Familiare. Come ricorda la Regione Toscana, la delibera attiva un contributo di quasi 5 milioni di euro che permetterà di prevedere assegni mensili di cura per un importo di 400 euro per i cosiddetti caregiver familiari. Gli interventi saranno destinati prioritariamente ai familiari di persone in condizione di disabilità gravissima o che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative legate a questa fase di pandemia. Le risorse erogate dalla Regione fanno parte del Fondo Nazionale per il Sostegno del Ruolo di Cura e Assistenza. Lo stanziamento complessivo di 4 milioni e 782 mila euro sarà utilizzato nell'arco di due annualità 2021 e 2022. Si potrà accedere al contributo, spiega ancora la Regione Toscana, mediante una richiesta di presa in carico e valutazione presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari del territorio. L'Equip, viste le condizioni cliniche e bisogni della persona con disabilità o non autosufficiente, potrà assegnare un contributo di cura. Il contributo economico sarà erogato mensilmente come assegno finalizzato a sostenere le funzioni di cura della persona che si assume in proprio l'onere dell'assistenza. Si tratta di un intervento aggiuntivo e complementare agli accessi a domicilio di personale sanitario e compatibile con gli altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno. Le persone che hanno i requisiti definiti dalla delibera regionale possono rivolgersi ai punti insieme il cui elenco, comune per comune, con relativi giorni di apertura, è disponibile a questo link.